Fondi del comune di Barletta ritenuti insufficienti, l'organizzazione del Menea Day del 12 settembre è slittata ad un nuovo evento ad ottobre e polemica tra l'assessore allo sport Marcello De Gennaro e il responsabile organizzativo del gruppo sportivo Avis Barletta e Eusebio Aliti, una lettera dell'associazione podistica in cui si contesta la mancata collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, la risposta della politica che aveva stanziato prima 14.000 euro, poi 24.000 euro con variazione di bilancio a fronte di una richiesta di 35.000 euro Più volte ho dovuto rassicurare l'organizzatore che si era proposto del Menea Day, cioè Eusebio Aliti più volte l'ho rassicurato circa l'entità del contributo che l'amministrazione comunale di Barletta avrebbe dovuto proporre per una manifestazione da lui definita di grande livello Io i contenuti di questa manifestazione non li ho mai conosciuti nei particolari Non avevo più di 14.000 euro da destinare all'evento, pare che questi 14.000 euro non bastassero Mi ero ulteriormente impegnato in attesa delle variazioni al bilancio per un ulteriore sforzo da parte dell'amministrazione Quando eravamo pronti al 28 luglio, perché in quella data sono state fatte le variazioni al bilancio, Aliti ha detto che avrebbe rinunciato perché era troppo tardi Attendeva solo e unicamente nei mesi passati un contributo del Comune e si basava solo su quello Cioè in ogni caso una persona appassionata e che tra l'altro riveste un ruolo autorevole in federazione di atletica leggera, credo che avesse tutti i mezzi e gli strumenti per arrivare all'obiettivo di un grosso evento su Barletta e quindi aveva sicuramente il tempo per reperire notevoli risorse Cioè in ogni caso